Che accoglienza mi aspetto? Sicuramente sarà una partita importante, una partita importantissima perché andremo a sfidare i detentori del titolo da otto anni, quindi di base sarà una partita importantissima. Saranno due partite importanti a San Siro e allo Juventus Stadium, fermo restando che non saranno le uniche due partite perché ce ne saranno altre 36, siccome noi andiamo a vedere nella globalità della situazione se vuoi essere ambizioso non devi essere focalizzato su una o due partite durante l'anno. Per quello che mi riguarda personalmente sicuramente ci sarà emozione nell'entrare allo Juventus Stadium, conoscete benissimo la mia storia, non vorrete diarvi qui a raccontarvi la mia storia, La conoscete benissimo, sapete, conoscete il mio passato e quindi ci sarà sicuramente, ci sarà emozione, ci sarà emozione fin quando non ci sarà il fischio d'inizio. Quando ci sarà poi il fischio d'inizio so benissimo di essere un avversario, so benissimo che la Juventus sarà un avversario per me e per noi per tutto il campionato e quindi dovremmo essere pronti a combattere e cercare di prevalere l'uno sull'altra.